Musica Bellissima a tutti ragazzi stiamo su Amnesia The Dark The Ash Center Quando vi siete visti il primo episodio tornate qua Se l'avete visto va bene così Ecco, bisogna inizi a drogarsi Quello non ci stava altra volta, chi è? Oh, calmo Devi stare zitto quando parli con me Io devo tornare di sotto, com'è? Da dove? Allora, studio Allora, noi eravamo praticamente rimasti in questa sala, no? Non la trovavo Adesso io devo cercare teoricamente un passaggio segreto Non so manco se ci sta però Mi posso buttare dalla finestra, scusa Che c***o è? Ok, questa è la censura Vediamo se c'è qualcosa in cataloghi Dai, cataloghiamo un'uscita? Ma non c'è niente Ma le candele non le puoi prendere? Scusa, ti fanno così schifo Scusa, ti fanno così schifo Ma possiamo uscire? Ok, non sono morto Cosa, questa chiave puoi sbloccare? Stavolta ce l'ho la chiave Questo me lo potevi dire anche prima Ah, flashback Diciamo che è un po' più ubriaccia Però non c'è un dettaglio Ok Non mica ci sta qualcosa per l'anterna Sì E quello chi è? Mi dice no, ci sta Ok, non provare ad avvicinarti Qualcosa per l'anterna? Ti prego fa che non ci sta jumpscat Qualcuno qua si è dato alla pazza gioia Datti all'alcol È una calamità naturale però questa Sì In pratica siamo chiusi qua dentro Ci sono tante cose utili Non lo so Fatti venire in mente qualcosa Devo spingere Sì, ci riesco magari Dai Un pochino di palestra I personaggi in giochi horror Devono sempre fare un pochino di palestra No, non ho mai capito il perché Oh, ed esci A volte sta Qui è andata prima Mi sa che devo fare qualcosa Sì ma ca... Oh Io Chiudo E io ti ascio là E' un pochino di palestra E' un pochino di palestra E' un pochino di palestra No, pensavo fosse una cosa segreta Secondo me come ho fatto? Mi è finita la torcia, che bello! Quindi, ecco, raccolto coprito Sì, ma stai calmo Adesso possiamo anche tornare in laboratorio, grazie Non fare jumpscare Se non ti dispiace, io prendo un pochino di provette O qualcosa per fare... Sì, ma tranquillo, eh Secondo, secondo ci sta Il terzo Sì, ma non ti cazzare Se metto l'ultimo, penso che schiatto Li ho messi tutti Bisogna accendere prima i bruciatori Vai Uno, due, tre Quarto Dove lo trovo un contenitore? Ah Ah, ok Fermo, fermo Il contenitore ce l'ho, non ti preoccupare Ho capito, meglio il contenitore ce l'ho Ah Ulala La cosa più bella che io per me È riempito di acido Ma va Ehm, ok Non ci sono più scale per... Ma va Ma serio Riesce a sollevare i barili con una mano E non riesce a saltare C'è un modo, dai C'è un modo per uscire Non posso rimanere bloccato qua Allora, aspetta Proviamo così, scusa Non per... Eh Madonna Tipo un'eternitazzo Per cercare un modo per usare la scala Meno mai che te lo dici Adesso posso Sì Raffine rida Raa Che abbaglianti Eh, ma va D'accordo Va bene In che senso i nemici ci sono vicini Scusate, perché ci sono nemici qua Io non Cerco runne Ma che... No Fermo là Fermo No, ci sta nessuno Era la cosa che... Era la lanterna che è finita Permesso? Ti dispiace che sta accendo la candela? Ma tipo Chi è che sta accendo tutte queste candele? È incappata... È inciappata qualcosa No Non è inciappata niente Non riesco ad afferrarlo strettamente Non saresti l'unico Eh, però Ok Gira Gira Ora but E che Escono persone a caso Se non è a caso è meglio Bello Proprio belli Non ci sono pirania qua dentro Giusto? Posso Guardare un nemico che non vedo? Io mi metto a fare parkour per le scatole Ok Tu stai fermo Non so dove sei Però Non farti vedere che è meglio Non ti aspetta Dai che ti prendo schiacchi No eh Sto facendo parkour in mezzo a delle casse Con dell'acqua Non c'è niente di meglio insomma Dimmi che questa... Il cancello è pesante Grande Non ci volevo quello che ci voleva Quindi che faccio? Non ci volevo più pesante Grazie a me mi ha fatto notare Ma Sala di madonna Aia Sì questo qua mi sta puoi uccidere Quindi più questo Io devo passare là in mezzo E io sono praticamente Morente Ah Stai fuori dall'acqua Se salto non mi dice niente però Se salto non mi dice Oh Se salto non mi fa niente Basta L'importante è che va tutto bene Io ti lo lancio In acqua Eh Beccati sto libro Studia capra Devo trovare un qualcosa Per alzare il cancello Però non trovo niente Un cancello pesante Io ho un nemico Acquatico no? Hai licciato proprio Madonna Eh vabbè Io direi di fermare Il video qua Perché altrimenti Non so ovviamente Che cosa fare Bene ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un mi piace Commentate se volete commentare Condividete Canale Telegram Instagram Tutto quanto in descrizione E noi ci vediamo Nel prossimo capitolo Bellissima Ciao